Elettronica Service, sistemi di sicurezza, antifurti e videosorveglianza. Viene a trovarci in Corso Mazzini 258 a Cava dei Tirreni nei pressi dello stadio comunale. In azione da questa mattina i mezzi meccanici di una ditta cavese per la messa in sicurezza della facciata esterna della Mediateca Marte. Commercianti e residenti della centralissima Via Felice Parisi, che lamentavano in questi giorni disagi a causa delle ingombranti transenne che rendevano difficile il transito, possono tirare così un sospiro di sollievo. Dopo gli ultimi cedimenti del rivestimento esterno del lato sud della Mediateca, l'amministrazione Servalli è corsa ai ripari e con la determina del 18 ottobre scorso, ha impiegato 6.100 euro per gli interventi di manutenzione della facciata ricoperta da lastre di pietrale cese che nel corso del tempo, per motivi legati ad infiltrazioni d'acqua, hanno perso aderenza provocandone in alcuni casi il distaccamento. L'intervento di messa in sicurezza di queste ore, però, seppur gradito dalla cittadinanza, non risolve definitivamente il problema che attanaglia il trafficato vicolo di Cava dei Tirreni.